Professoressa Giovanna Franchetti, domani all'Istituto Sauro Morelli, è in programma un'importante conferenza sul tema delle economie del sommerso e l'inquinamento ambientale del litorale vesuviano. Perché questo tema? Perché si parla molto di transizione ecologica. È una parola che ricorre spesso nei media perché soprattutto attira grossi interessi economici, ma purtroppo attira poche buone intenzioni. L'incontro nasce su iniziativa dell'Associazione Internazionale GIAI-GIAGAT, con cui ha collaborato l'Università Verde e Salvaguardia Ambiente. Rientrano in un ciclo di incontri che si terranno sul territorio nazionale e internazionali, previsti nel periodo che va dal 21 settembre, parliamo di quest'anno, giornata della pace, al 2 ottobre, giornata della non violenza. Queste manifestazioni trattano di temi ambientali legati specificamente ai territori in cui si va a parlare. Noi a Torre partiamo da un problema molto grave che conosciamo tutti. Esistono a Torre, intorno a tutto il Vesuvio, tutta una serie di aziende che sono illegali, lavorano in nero, producono in nero. E quindi quando devono sversare i rifiuti delle loro lavorazioni, sversano in nero, sulle strade un po' più appartate, ma sulle nostre strade. Però a un certo punto poi si aggiungono altri rifiuti e incendiano. E quindi abbiamo roghi, roghi tossici, perché sono materiali di provenienza, diciamo, industriale. I vari relatori che interverranno saranno Alex Zanotelli, che tanti conoscono, parlando prima dei relatori del nostro territorio, Silvano Somma, Ciro Teodonno, Enzo Sforza. E poi ci sono Valentina Ripa, coordinati dalla nostra presidente Felicia De Luca. Ora, l'obiettivo dell'Università Verde attraverso questo incontro è quello di informare e sensibilizzare. Certo, diciamo che noi ci aspettiamo che da questo incontro, a proposito della transizione ecologica, di cui si parla molto, e per la quale il Sud doveva essere, come dire, protagonista, e invece non sembra proprio che sia così, diciamo ci aspettiamo di capire un po' meglio noi come singoli cittadini, ma anche e soprattutto come cittadinanza, come possiamo intervenire per evitare che i fondi vengano spartiti fra i soliti noti del Nord. E naturalmente è importante divulgare e approfondire queste tematiche partendo già dalle giovani generazioni, quindi dagli studenti. Certo, abbiamo coinvolto alcuni studenti del Nobel che verranno a recitare delle poesie in tema, e anche una brava violinista che abbiamo sul territorio, Stefania Tagliamonte, che ci allieterà con un po' di musica d'arco. Grazie.